I pezzi grossi di Hollywood hanno avvertito il principe Ferri e Meghan Markle di stare alla larga dall'argomento controverso. Il principe Ferri e Meghan Markle vengono avvertiti di rimanere in silenzio sul conflitto di Israele con Hamas o rischiano di mettere a repentaglio il loro futuro a Hollywood e avviene nel mezzo di un'aspra guerra di parole tra sostenitori filo-israeliani e filo-palestinesi che ha polarizzato il mondo dello spettacolo. Un dirigente senior di produzione dello studio, che ha stretti legami con l'agenzia WM e di Emanuel, ha dichiarato al Daily Express US, il principe Ferri e Meghan devono resistere a qualsiasi tentazione di unirsi a un dibattito che è diventato così tossico da creare ostilità negli anni a venire. Di conseguenza è probabile che ci siano divisioni durature a Hollywood, e loro potrebbero ritrovarsi tagliati fuori se prendono posizione da una parte o dall'altra. E questa è l'ultima cosa di cui hanno bisogno. La coppia reale ha già perso il contratto da 20 milioni di dollari con Spotify e la loro principale fonte di reddito, il contratto quinquennale da 100 milioni di dollari con Netflix, sarà rinnovato nel 2025. La nostra fonte ha detto. Una cosa è che Harry Emanuel, susciti polemiche con le sue opinioni. È uno dei più grandi mediatori di potere di Hollywood, e la sua posizione è inattaccabile. Ma Ferri e Meghan, potrebbero rischiare tutto se intervenissero con qualsiasi tipo di commento. Sono su un terreno instabile così com'è, e non possono davvero permettersi di alienare qualcun altro o rischiare di perdere ulteriore sostegno pubblico. Sia la popolarità di Meghan Markle che quella del principe Ferri, sono crollate negli ultimi sondaggi di opinione pubblica, con il principe William e la principessa Kate ora di gran lunga la coppia reale più popolare in America.